ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi abbiamo questo range rover e questo free lander sempre sempre land rover che ho convertito in auto da soccorso soprattutto per la zona montana iniziamo prima da uno e proviamo vi provo a spiegare che cosa ho combinato con questo kit di montaggio della burago sono in metallo arrivano in scatola di montaggio i kit sono di una decina di anni fa e praticamente vi spiego che cosa ha combinato facendole diventa diventare a mo di ambulanza iniziamo con il free lander arrivava con la scocca praticamente neutra grigia io l'ho ovviamente verniciata di bianco applicando le strobo anteriori ed il lampeggiante superiore appena dietro il tettino ovviamente ho costruito ho realizzato gli interni e nella parte posteriore ho fatto un divisorio in cui ho inserito una barella e un seggiolino laterale per il soccorritore ho applicato le decal laterali ed le strisce catarifrangenti vi faccio una panoramica del modello anche dalla parte posteriore l'antennina le decal la parte posteriore il modello ha solo due aperture cioè il guidatore ed il passeggero peccato che non abbia la parte posteriore apribile perché avrei voluto farvi vedere si intravede il sedile del soccorritore e la barella bel modello burago non si smentisce mai anche nei kit passiamo all'altro in questo caso l'auto vettura era già rossa in quanto all'inizio vi erano diverse versioni fra cui una versione dei vigili del fuoco inglesi che io ovviamente ho convertito nella dell'auto da soccorso del corpo nazionale e del soccorso alpino e speleologico ho fatto più o meno le stesse realizzazioni che ho fatto sul freelander aggiungendo nella parte posteriore del tettino una sorta di alettone che contiene gli apparati di trasmissione con le loro relative antenne i lampeggianti con il faro da ricerca che avevo anche inserito qui sul freelander andiamo nella parte posteriore una panoramica del modello a differenza dell'altro il modello è apribile tre aperture guidatore passeggero e parte posteriore dove ho realizzato la barella con delle attrezzature da soccorso ed il sedile del soccorritore anche il portello posteriore è ovviamente apribile per facilitare il caricamento del ferito ok spero che questo video sia di vostro gradimento grazie grazie tantissimo per le visualizzazioni che per me sono importantissime e grazie per il like se vorrete un grande abbraccio ed al prossimo video dove parlerò ampliamente delle mie altre collezioni ciao